Qual è la trama di questo nostro incontro? Lo risunta in queste frasi. Il tema del rapporto tra l'individuo, l'altro, l'ambiente e gli oggetti lo studisce proprio alla trama di questo incontro. Tutti noi ci troviamo d'accordo sul fatto che la relazione delle persone dovrebbe essere autentica, creativa, genuina, vera, responsabile. Tutti noi immaginiamo questo. Tuttavia, anche se potenzialmente ne siamo tutti capaci, davvero pochi sono quelli che ne sono capaci di fatto. Ecco, su questo noi ragioniamo oggi in questo incontro. Varii contraddizioni, per esempio, quello appunto che sostiene Maffei, il rapporto tra il pensiero irriverente, come lo chiama lui, cioè il pensiero analogico, quello dei simboli, verso il pensiero digitale, cioè quello rapido, dove il pensiero è un termine improprio in questo momento. Ancora, la contrapposizione tra l'umanesimo e la fragilità. Siamo tutti persone fragili, deboli, rispetto all'onipotenza promessa dalla tecnologia, l'efficienza. Ancora, la contrapposizione tra il ritmo personale e la velocità dei nostri tempi. E infine, io metto una contrapposizione tra il ciclo della speranza, sapete, la speranza è una funzione psichica molto ammorata alla realtà, e il ciclo del desiderio, sapete, che il desiderio invece è piuttosto disancorato dalla realtà. Grazie. Grazie.